salve a tutti buongiorno mauro mi ha scritto ma ora si si ma ora è normale pian piano che vai avanti riuscirai a attirare sempre più o meno nel stesso modo anche a me capita questa cosa di fare un tiro in un modo poi in un altro perché si cerca di il modo giusto no però a certo punto questo modo giusto lo trovi e comincia a tirare pressoché quasi simile e il fatto è che bisogna riuscire a tirare sempre lo stesso modo è quello il problema poi mi è scritto anche a filippo ma adesso non mi ricordo la domanda perché l'ho letta stamattina non mi ricordo quindi sarà per la prossima volta e adesso non mi ricordo un po la volta risponderò saluta a tutti